Il 26 ottobre dell'81 lei rese una dichiarazione al giudice istruttore di Milano, la conferma il signor Berlusconi? Sì, certamente. Parlò della sua adesione alla loggia più due. Ecco, se il racconto lo volesse ripetere davanti alla corte, cominciando dal principio, credo dell'intervento di Gervaso, no? Così conobbe Gelli lei? Sì, sì, attraverso il mio amico Roberto Gervaso. Ecco, se vuole raccontare come avvenne questa conoscenza e perché Gervaso glielo presentò e perché lei aderì. Sì, allora io incontrai Gelli, adesso è molto lontano il tempo perché credo che siano di parecchi anni e quindi non è che sono... Questo che avvenne nel 78, vero? Il principio del 78. Ecco. Così lei disse, aderì nei primi mesi del 78. Ecco, questo è nella mia dichiarazione? Sì. Quindi allora era una dichiarazione resa avvicina, no? Nell'81. Nell'81. Però l'invito era già anteriore di sei mesi, quindi possiamo dire che verso la fine del 1977 avviene l'incontro. Ho capito. Sì, io non ricordo tutte queste date perché mi pareva che fosse anzi più vicino al momento in cui scoppiò lo scandalo della P2. Anche perché tutto quanto in effetti si risolse nella mia adesione sollecitatami dall'amico Roberto Gervaso e quindi non ebbi poi nessun altro momento di colloquio, di rapporto, di qualunque altro genere... Sì, scusi la interrompo per le date. Lei disse, aderì alla P2 nei primi mesi del 78. Gervaso invece ha dichiarato che Gelli chiese a lui Gervaso di conoscere lei dopo l'ottobre del 78. quindi... È un po' difficile... Sì, per non esserci. No, ma dico, ottobre del 78 sposterebbe in sostanza la sua adesione a aprile del 79, ancora più vicino all'81. Infatti io la ricordavo più vicina, francamente. Beh, voglio dire, io mi basavo su quello che lei dichiarò allora, presupponendo che nell'81 ricordasse meglio, che erano tre anni prima. Certamente, certamente la memoria... Gervaso in che termini le presentò, le parlò di Gelli? Ma mi parlò di Gelli in termini molto positivi, naturalmente, era tra l'altro, bisogna riandare a quel tempo lì, e quindi Gelli era una persona su cui non c'erano mai stati avvisi negativi di nessun tipo, anzi sembrava, appariva come circondato da una buona considerazione generale. E io lo incontrai due volte, penso all'Excelsior, anche se non mi ricordo se una volta fuori l'Excelsior o una volta al Grandotel, dove io scendevo quando venivo a Roma per le mie cose, mi riempì di complimenti, dicendomi che mi considerava tra i nuovi imprenditori quello più bravo, quindi insistete molto nel fatto che io avevo un futuro importante davanti, eccetera. E poi attraverso Gervaso mi fece sapere che avrebbe tenuto molto a una mia adesione a questa sua associazione, che per la verità allora appariva come una normalissima associazione, come se fosse un Rotary, un Lions, e non c'erano motivi diversi, per quello che se ne sapeva, per pensare che la cosa fosse diversa. Io resistetti molto a dare la mia adesione, e poi lo feci perché Roberto Gervaso insistette particolarmente, dicendomi di rendere una cortesia personale a lui. Ci fu anche forse un motivo pratico, Gervaso mi andava dicendo che Gelli era molto introdotto presso le autorità politiche argentine, e che in Argentina si doveva sviluppare una grande serie di lavori pubblici. Io allora ero presidente di un consorzio per l'edilizia industrializzata, che raccoglieva tutte le principali aziende italiane del settore, non la mia azienda, cioè era proprio una carica che io avevo a titolo onorifico, diciamo così anche perché ero giovane, e il fatto che mi avessero chiamato a questa carica aveva solleticato il mio orgoglio, la mia ambizione personale, e intravidi in quello una possibile utilità. Però di quello non ne parliamo mai, perché voglio sottolineare che tutto il mio rapporto si risolse nel fatto della mia adesione. Ho sentito che nella relazione dei parlamentari a riguardo mi venne attribuito anche un versamento di 100.000 lire, per quello che ricordo, ma sono sicuro di questo, a me non fu mai chiesto nulla e non feci nessun versamento mai. Mi mandarono una tessera che rispedì al mittente anche perché c'era una cosa abbastanza ridicola e che conviene il mio orgoglio, apprendista, la ricevetti in una riunione con i miei dirigenti attorno al tavolo di consiglio della mia azienda, ci facevamo delle materisate e pregai, seduta stante, la mia segretaria di rispedirla al mittente. Tutto questo finì con questa cosa. Quindi anche il fatto che non ho trovato traccia nei miei diari quotidiani della data, ho cercato ieri sera di guardare perché immaginavo che mi venisse fatta una domanda sulla data, questa cosa passò come una cosa assolutamente non importante. Ho imparato perché adesso non mi scrivo nemmeno al circolo della vela e non mi sono più iscritto a nessuna associazione e non ho nemmeno più frequentato le associazioni di Rotary a cui ero iscritto. Perché purtroppo questo concetto della responsabilità che vengono addossate a qualcuno per comportamenti che sono certamente non suoi, è una lezione che ho imparato e ho imparato molto bene. Lei praticamente non si interessò in alcun modo di approfondire l'argomento con Cervaso per esempio, ma di che cosa stai parlando? No, no, ma c'era che, no, questo era una cosa abbastanza cognita, Gelli voleva avere intorno a sé le persone migliori dell'Italia per un club su cui probabilmente ci sarebbero dovute essere delle riunioni, delle convention, a cui peraltro non fui mai invitato e di cui nessuno mai mi parlò. Ecco, quello che non ho capito in questo discorso, c'è una fine di assoluta indifferenza che non fa comprendere per quale ragione lei abbia aderito, per far contento Gervaso e per altri fini. Guardi, il motivo principale è stato proprio questo, l'insistenza di Roberto Gervaso che era un mio carissimo amico. E lui mi disse fammi fare bella figura, lui aveva bisogno di scrivere sul Corriere della Sera, voleva scrivere sul Corriere della Sera, e quindi, insomma, lui me lo presentò a un certo momento, dico ma cosa ti costa? Dammi questa possibilità, fammi fare bella figura e io aderì. Tenga presente che allora questa cosa qua, insomma, non c'erano motivi per pensare che fosse una cosa pericolosa, ma nessun motivo. Io sentivo anche da Roberto Gervaso parlare di frequentazioni importanti, che adesso non ricordo neppure con chi, ma erano frequentazioni ad altissimo livello di questo signore, quindi... Cioè, le raccontava che Gelli... Mi ricordava che Gelli era introdotto presso tutti i più alti gradi istituzionali del Paese, e quindi che era persona assolutamente importante, rispettabile, eccetera. Fu forse anche questo che la indusse. Sì, ma certamente, certamente, ma anche, guardi, credo anche, forse oltre al fatto di Gervaso, anche il fatto dei complimenti che dicevetti e il tipo di insistenza motivata col fatto che si vedeva in me una persona di sicuro a venire e il meglio che l'imprenditoria italiana in quel momento esprimesse tra i giovani imprenditori. Probabilmente fu anche la mia vanità che li portò ad accettare. All'epoca di che cosa si occupava? Io mi occupavo soltanto di edilizio. Quindi ancora i mezzi di comunicazione erano in lato a venire? Credo che nel 78... Ha cominciato? Credo di essere stato un socio, ma non ne sono sicuro, devo verificare, ma un socio di minoranza del giornale di Montanelli. Ma non sono sicuro nel 78, 88... Comunque è stato il primo passo nel mondo dei mezzi di comunicazione. Lei, Bruno Tassandin, lo ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto. Glielo presentò Gelli o lo conobbeva altri? No, no, lo conobbi perché avevo una esigenza che era quella di comperare il settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Ma Tassandin le parlo mai di Gelli? No, mai, neppure una volta. Perché Tassandin andava raccontando insieme a Gelli che è in contatto con Silvio Berlusconi. Cioè non era lei la fonte di questo tipo di informazione? Tassandin aveva un direttore che conoscevo molto bene, che era mio amico da tanto tempo, Franco Di Bella, del quale ero amico di famiglia. E' il direttore del Corriere? E lavorava, era capo servizio del Corriere quando lo conoscevo. Poi è diventato direttore. Dopo poi diventò direttore. E a lui ero legato, mia moglie era amica di sua moglie e io ero amico suo, amico del figlio. E sapeva che anche Di Bella conoscevi? Sì, questo lo sapevo perché mi venne detto da Roberto Gervasio dallo stesso Di Bella. E anche questo mi spinse, devo dire, sulla strada della tranquillità. Di Bella in quali termini si espresse nei confronti di Gelli? Tanto da indurla... Sì, lo stimava, lo apprezzava. Ma non le parlo mai di interventi su un Corriere da parte di Gelli? Giuseppe Battista lo ha mai conosciuto? Giuseppe Battista l'ho conosciuto come conduttore del Teatro Eliseo di Roma. Questo in quale periodo? Non so dirle in quale periodo, probabilmente in tempi successivi a questi, perché io gestivo e gestisco il Teatro Manzoni di Milano. Quindi ospitavamo delle compagnie di spettacolo che erano produzioni del Teatro Eliseo di Roma. Sapevate di Gelli come conoscenza in comune? No, no, assolutamente. Sapevate di Gelli come conoscenza in comune? No, no, assolutamente. Fui sorpreso quando lei si ha anche il suo nome nella lista che i giornali pubblicarono. Va bene. Pubblico mistero, domande? Senta, non ho afferrato bene. Lei si iscrive su, diciamo, richiesta, insistenza, pressione del suo amico Gervasio. Ma a che cosa pensa di iscriversi? Perché oggi lei parla di un club, di un'associazione di Gelli. A che cosa pensava di dare la sua adesione? Come ho già detto, glielo ripeto, a un'associazione, certamente sapevo che era un'associazione che apparteneva alla masoneria, aveva dalla masoneria una mia impressione positiva, perché anche in casa c'erano delle tradizioni al riguardo, quindi era un'adesione a un'associazione che doveva raccogliere, che era in procinto di raccogliere, nomi importanti nella vita. Una loggia massonica. Una loggia massonica, certamente. In parte lei ha già chiarito questo punto. Lei dice che Gervasio insisteva. E tra l'altro mi consenta, siccome la masoneria è sempre vista con dei rituali, con delle cose, naturalmente non c'era la previsione, e questo mi ricordo di averlo ben chiesto benissimo, scherzandoci sopra, dico ma non è che pretendete che io mi fai... non ci fu, al rituale di sorte. La qualificare un'apprendista, però. E quello, naturalmente... Questo particolare lei lo riferisce all'epoca, nell'ottobre dell'81, senza adolersene. Dice che il mio grado era quello di apprendista. Non è che dice che poi ci sono seccato di essere apprendista. Lei sa bene che nei verbali non vengono riportate tutte le battute, le ironie, che poi invece si fanno nel parlato. Senta, e lei disse che Gervasio insisteva tanto perché voleva fare bella visura, poi lui ci teneva a scrivere sul Corriere della Sera. Che collegamento c'era per quello che le fu detto allora tra il fatto di accettare questa iscrizione, di fare questo favore a Gervasio, e la maggiore possibilità di Gervasio di scrivere sul Corriere della Sera? Ma non è che ci fosse un collegamento diretto. Gervasio voleva rendersi utile e apparire anche, credo, importante agli occhi di questi signori. Eh, ma questi signori che chi è per lei, Gelli, nel 1978, quando c'è da presumere a gennaio, perché lei dichiara la sua iscrizione nei primi mesi del 1978, negli atti, nei tabulati di Castiglione-Fibbocchi, che è indicato a gennaio del 1978, quindi i due dati dovrebbero coincidere. Quando lei nell'inizio del 1978 si iscrive alla P2, Gelli, chi è per lei, oltre ad essere un amico di Gervasio? Bene, è un personaggio importante che cerca di mettere insieme con importanti amicizie internazionali, quali quella a cui ho accennato nei confronti di persone. Qua mi ricordo che dichiarava di essere amico personale proprio di importantissimi personaggi. e nel mondo dell'editoria io ero perfettamente a conoscenza che aveva un'influenza importante in Casa Rizzoli. Questa era una cosa assolutamente risaputa e che anch'io ho considerato. Era una cosa assolutamente risaputa sulla quale non riusciamo mai a mettere dei punti fondi. Risaputa perché? Perché aveva i rubinetti finanziari, perché aveva l'influenza politica, perché aveva l'influenza economica, perché non so se... Io non so rispondere a questo proposito. Certamente era persona ascoltata dai vertici Rizzoli. E di questo lei parlò con Tassandini? No, perché da Tassandini io... Il rapporto con Tassandini era un rapporto che io miravo alla possibilità di acquisizione di una rivista che sapevo era sul mercato. che era TV Sorrisi e Canzoni. Quindi a questo proposito devo dire che poi io ebbi la possibilità di comprare questa cosa al di fuori comunque completamente da questo circuito. perché riuscì a prendere con una gara pubblica in Lussemburgo, rivolgendomi le offerte alla procura di Lussemburgo, riuscì ad acquisire il 52% di TV Sorrisi e Canzoni. Tassandini dice, riferendosi a lei, che era molto mio amico, era molto suo amico, chiedo scusa, in diverse occasioni mi disse di fare degli accordi con lui sia nel settore della televisione che dell'editoria. Conoscevo Berlusconi direttamente e questo in verità mi fece riferimento all'opportunità di un accordo anche nel quadro dei contatti che lui aveva congelo. A me questo non risulta e perciò è una cosa che risulta a Tassandini. Io Tassandini, essendo frequentatore della Federazione Italiana Editori, in questo senso io avevo la possibilità di incontrarlo, non posso definire da parte mia questo rapporto assolutamente un rapporto di amicizia. Nei può definire quello con Gelli un rapporto di amicizia? No, assolutamente. Senta, lei ha avuto numerosi e risultano dagli atti del processo numerosi contatti con Flavio Carboni e attraverso Flavio Carboni con Corona. Risponde a... Sì, sono stato una volta da Corona durante una visita ufficiale da lui che era presidente della regione Sardegna e feci interviste con giornalisti in quell'occasione e presentai a Corona un'ipotesi di progetto su Olbia Olbia 2 che come lei saprà non è mai andato in porto. Eh, non è andato in relazione nel corso di quell'incontro si fece riferimento al fatto che tutti i partecipanti a quella riunione erano massoni? No, assolutamente. Non sapevo che... 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 che Corona fosse massone. Io andai da imprenditore a incontrare il presidente della regione Sardegna. Per Licani quantifica in 23 miliardi il flusso di denaro che sarebbe andato da lei al gruppo Carboni in questa intensità di rapporti economici vi fu qualche connessione o influenza dei legami massonici? Assolutamente mai. Vorrei precisare anche in che modo e per quali ragioni lei può parlare di questo flusso. No, no, si immagini. Per realizzare questo progetto di Olbia 2 per il quale abbiamo presentato negli anni 8 progetti appunto al comune di Olbia e non siamo mai riusciti ad avere un'approvazione dato che la zona era una zona con molti frazionamenti per cui c'erano diverse proprietà che componevano il comprensorio nel quale si intendeva edificare questa città con un porto antistante il signor Carboni che appariva come molto considerato in comune di Olbia dalle autorità locali e dalle eminenti persone della comunità locale si mise in contatto con una nostra società di cui era responsabile un mio carissimo amico e compagno di scuola Romano Comincioli a cui via via procurò questi terreni l'attività era un'attività commerciale e vera e propria nel senso che Carboni commerciale e vera e propria nel senso che Carboni li acquisiva e poi li trasferiva a questa società e abbiamo per completare tutta l'operazione speso in quegli anni 40 miliardi che sono rimasti lì e che ormai con l'inflazione eccetera eccetera pesano nei nostri bilanci per molto più di 100 miliardi su cui abbiamo investito moltissimo i progetti non siamo riusciti mai a fare niente e non vi fa nessuna assolutamente io rimasti sorpreso quando vieni a scoprire questa cosa come rimasti sorpreso per moltissimi altri nomi tra l'altro non immaginavo né potevo immaginare che fossero così tanti io pensavo una cosa nella mia testa nella mia immaginazione molto ma molto più ridotta le parti hanno domande grazie grazie buon lavoro